I got movement in the trees Predator Hunting Grounds titolo meno ambizioso di quello che abbiamo citato in precedenza non di molto e che però comunque sicuramente può avere il suo pubblico perché il brand di Predator è un brand popolare che magari ha vissuto giorni migliori ma comunque ha sicuramente una sua base utenti importanti quindi ti chiedo, questi utenti, questi fan di Predator vale la pena che aspettino con ansia Hunting Grounds? Dipende quanto vuoi far durare questa vita anteprima, io ti vorrei rispondere tranquillamente no, ecco il chiudere tutto quanto, però se vogliamo argomentare ti dico no, nel senso con ansia no, non vi fa non rimanete con l'ansia di provare Predator Hunting Ground, attento perché il ground è uno solo, non sono tanti è un ground unico cioè, allora, è un multiplayer asimmetrico il cosiddetto multiplayer asimmetrico, uno contro quattro, loro se non sbaglio sono lo stesso team di sviluppo che ha fatto venerdì 13 che aveva la stessa identica roba con Jason contro quattro che cercavano di scappare e ovviamente c'è un grande illustre purtroppo fallimentare che è Evolve che proponeva la stessa identica meccanica, quindi un personaggio, un giocatore molto più forte degli altri quattro e gli altri quattro che un minimo devono collaborare c'è un twist rispetto al solito perché in questo caso i quattro giocatori in realtà hanno una missione che non ha nulla a che vedere con il Predator perché in pratica loro hanno una missione ci sono queste mappe molto grandi dove in ogni mappa viene dato questo obiettivo tra circa 9-10 dinamici cioè loro hanno detto noi abbiamo realizzato 9-10 tipologie di missioni tutte e 10 possono essere fatte in tutte le mappe che abbiamo inserito nel gioco che non mi hanno detto il numero preciso però è a caso cioè tu inizi la partita ti viene detto come personaggio come soldato questa è la tua missione quindi tu devi scegliere il punto di ingresso sulla mappa quindi un po' di tattica ti ritrovi e scendi con l'elicottero con questi tuoi tre amici quindi siete in 4 e dovete completare la vostra missione ed in mezzo c'è l'intelligenza artificiale con i soldati i Viet Cong che stanno lì sparsi insomma i soldati Viet Cong non so perché Viet Cong mi è venuto comunque i soldati militari avversari che sono sparsi ho pensato alla foresta pluviale e mi è venuto in mente i Viet Cong non so il collegamento sono sparsi lì dentro e quindi dovrete far fuori gli avversari far fuori tutti gli altri soldatini e fare le vostre missioni di solito sono missioni un po' lunghe trova prima il radar che ti dice dov'è il server poi devi arrivare al server per metterci dentro il virus e scappare in tutto questo c'è l'incognita del Predator ovvero lui le basi sono interessanti perché il Predator non sa qual è la missione dei soldati e non sa da dove arrivano quindi tu hai questa prima fase in cui devi trovarli dopodiché devi essere bravo a intervenire a farli fuori uno per volta mentre magari stanno combattendo perché il Predator non è particolarmente forte cioè se per sbaglio ti ritrovi nel fuoco incrociato già di un paio di soldati ti buttano giù cioè a meno che non sono proprio scarsi ti ammazzano quindi c'è un po' la necessità di essere un minimo stealth cercare di intervenire nel momento giusto mentre magari quello si è separato e la meccanica è un po' tipica nel senso che una volta che hai ammazzato uno dei soldati lui può essere risuscitato al volo da un suo compagno a meno che non gli stacchi la testa che ci mette qualche secondo di più dopodiché finché rimane almeno un soldato in vita lui può correre in una sorta di base stazione radiofonica e se arriva in questa stazione radiofonica e riesce a chiamare via radio ritorno gli altri giocatori se muoiono tutti e quattro ha vinto il predator ovviamente sulla carta dice ah è interessante tutto quanto il problema è che è un gioco molto deficitario nel senso che tecnicamente se avete visto il trailer è molto chiaro che siamo vicini a venerdì 13 che insomma tecnicamente cioè non era assolutamente secondo me era addirittura più interessante evolve quando era stato annunciato a suo tempo e poi unisce a questo fatto che il predator prima di tutto non è così forte ti viene da pensare che io mi butto giù perché il predator rispetto a tutti può correre sugli alberi c'ha ovviamente l'invisibilità c'ha la visione quella infrarossi del predator però dipende l'abbiamo stata pensare adesso mi butto giù prendo alle spalle il soldato lo faccio fuori con due o tre colpi invece sei lì che continui ad artigliare prima di riuscire ad ammazzarlo e questo intanto ti spara se ti sparano in due crepi abbastanza velocemente cioè è un po' poco ancora poco bilanciato mi dà questa idea qui e ha dei deficit enormi con l'intelligenza artificiale cioè c'è il respawn istantano davanti a te dei nemici dei soldati nemici non fanno niente se non spararti rimangono immobili in posizione di sparo cioè è un gioco che sembra essere in uno stadio di sviluppo molto iniziale molto molto iniziale l'idea interessante attualmente la realizzazione è molto deficitaria più che altro perché comunque il predator dei film è rispetto al soldato semplice una macchina da guerra inarrestabile tra l'altro venerdì 13 rispetto ad altri titoli simili tipo Dead by Daylight aveva un po' il problema della ripetitività legata al singolo killer secondo te comunque rischia dopo 10 15 20 partite di essere sempre gli stessi allora la prima cosa che ho detto loro ho detto questo fatto ci sono diverse mappe tante missioni differenti poi c'è anche un sistema di progressione perché sia i soldati sia il predator ha un sistema a livelli man mano che sali di livello utilizzandoli sblocchi nuovi armamentari e noi abbiamo provato con il livello 17 in cui il predator aveva le sue armi cioè il cannone al plasma appunto gli artigli c'era questa specie di siringa per riguadagnare energia loro dicono avrai tanti armi diversi tanti combinazioni anche per i soldati ovviamente avrai armi cioè fucile a pompa fucile a cicchino granate e così via un po' la ripetitività è insida nel tipo di gameplay ovviamente ti devo dire io ho giocato due volte come soldato e una volta come predator c'è la prima cosa che subisci secondo me attualmente tanto lo sbilanciamento del predator in senso negativo perché come hai detto bene te cioè posso capire se mi faccio beccare e mi comincio a sparare però mi devi fare in modo tale che quando sto tutto il tempo sugli alberi arrivo alle spalle a uno mo' non dico un colpo ma massimo due lo devo avere ammazzato se sto là a dare attigliato e lui fa il tempo a girarsi a spararmi non è credibilissimo ecco mettiamolo in questo modo qui e come soldato c'è la componente che non è una vera sfida la missione che fai cioè mi ha lasciato un po' freddino un po' da vario in bocca tra l'altro da come descrivi l'esperienza col predator hai perso non sei riuscito a vincere no no ho vinto ho stravinto col predator sono stato l'unico perché eravamo tre tre gruppi di giornalisti diversi sono stato l'unico ho preso il predator e li ha ammazzati ma secondo me per demerito degli altri posso dire questa cosa qui ok grazie per Paolo il gioco uscirà in esclusiva per playstation 4 l'anno prossimo nel 2020 non c'è ancora un dato di uscita ma continuate a seguirci per tutta la copertura su predator e ovviamente anche tutta la copertura sulla gamescom 2019